amici di moto.it ciao a tutti e bentrovati in questa prova e perché proviamo la moto guzzi v85 tt è presto detto è una delle moto più amate sul mercato italiano e non solo è stata profondamente aggiornata nel 2021 e tra un secondo ci arrivo e poi non potevamo non provarla perché è l'anno del centenario della moto guzzi che nel 1921 è stata fondata quindi 2021 siamo a cent'anni di storia di una di uno dei marchi più prestigiosi della ingegneria italiana non solo del motociclismo adesso v85 tt è qua con noi la proviamo da sola perché ha avuto aggiornamenti molto importanti e parto subito da quello macroscopico che riguarda i cerchi sono sempre a raggi ma la moto guzzi ha ascoltato gli appassionati della casa dell'acqua di mandello dell'ario e ha dotato questi cerchi della tecnologia tubeless quindi non c'è più la camera d'aria sono molto più sicuri in caso di foratura altro aggiornamento molto importante riguardo ovviamente il motore sempre a v trasversale di 90 gradi 853 cc che diventa euro 5 la potenza non cambia esageratamente perché passiamo da 80 cavalli a 76 cavalli a 7500 giri con la coppia massima di 82 newton metro a 5000 giri ma la cosa più importante e lo vedrete tra poco con la gopro che questo motore è diventato più regolare fino a 4000 giri altre novità riguardano poi l'elettronica della moto perché le mappe motore diventano 5 abbiamo sempre la strumentazione tft che vedrete anche tra poco nella gopro e poi tanta qualità in questa moto guzzi che mantiene la trasmissione finale ad albero cardanico e poi guardate i dettagli abbiamo una forcella a stili rovesciati sempre regolabile nella ritorno idraulico e l'impianto frenante con il doppio disco da 320 mm montato flottante e con pinze brembo ad attacco radiale altro capitolo molto importante riguarda le finiture che sono sempre curatissime sulla v85 che ha le leve regolabili poi comandi a pedale in alluminio con lo snodo anch'esso regolabile forcellone in alluminio i cerchi ve l'ho detto tubeless quindi tanta qualità e nell'insieme la moto non è neanche aumentata di prezzo in maniera significativa perché la versione euro 5 parte da 11.890 euro e questa però è la colorazione centenario che costa 12.090 euro di serie troviamo anche il portapacchi e il maniglione in acciaio molto comodo anche per il passeggero che ha delle pedane basse appena avanzate ma molto curate e comode guardate anche loro sono fatte in alluminio questo è tutto perché sono le principali novità della motoguzzi v85 tt che vi ricordo ha un serbatoio da 23 litri con ben 5 litri di riserva la sella dista soltanto 83 centimetri da terra e il peso in ordine di marcia è di 230 kg adesso basta con i numeri e andiamo subito a provarla eccoci partiti con la nuova v85 tt versione 2021 con il motore euro 5 5 mappe motore adesso sono addirittura su sport perché è una strada tutta curve e finalmente le ruote tubeless molto molto utili ai fini della sicurezza magari meno votata al fuoristrada però sappiamo che la v85 è una max enduro classica da bei viaggi facili sterrati non è certo una moto da mulattiero da salto quindi ottima scelta della motoguzzi brava questa versione centenario che ancora un prezzo secondo me è molto competitivo 12 mila euro perché ha un pacchetto molto molto completo con il cardano che ci evita il fastidio della manutenzione della catena motore raffreddato ad aria trasversale che qualcosa di unico del panorama delle max enduro finiture molto curate con freni brembo forcella kayaba regolabile mono ammortizzatore anch'esso regolabile quindi c'è un bel pacchetto ecco adesso sono 80 allora sento chiaramente l'aria addosso ci sono 19 gradi la cosa è piacevole sicuramente per chi lo userà tanto d'inverno è consigliabile mettere parabrezza aftermarket più protettivo perché questo ripara poco molto comoda una posizione particolare perché la sella è una poltrona mi ricordo nella comparativa di qualche tempo fa con nico cereghini gli era piaciuta moltissimo e confermo è veramente una poltrona manubrio molto largo c'è un'impostazione che dà tantissimo controllo guardate poi come scende nel misto in piega da sola manubrio largo e pedane un po avanzate un'impostazione un po misto enduro stradale stradale perché le pedane sono proprio da strada sella comodissima e manubrio invece proprio da max enduro impianto frenante molto molto potente come era anche prima forcella ben tarata guardate 80 all'ora se mi attacca i freni che razza di risposta o è una moto sicurissima frena in maniera potente decisa ed ecco il motore euro 5 lo sentite quanto spinge ecco le prime impressioni mi fanno dire che a livello di erogazione è migliorato fine 4.000 giri era un po la lamentela che avevamo fatto prima e che era stata riscontrata da molti utilizzatori era un motore molto regolare molto dolce non che sia un brutto motore quello precedente chiariamoci loro quattro andava comunque bene però il grosso della coppia arrivava a partire dei 4.000 giri il grosso della spinta adesso guardate sono in quarta e riprende molto bene adesso però cerco una salita perché mi direte in discesa è facile riprendere bene quindi passiamo a una bella salita e vi raccontiamo come va eccoci in salita prima seconda cambio molto morbido frizione a cavo morbidissima guardate mette addirittura in quarta 2.000 giri non c'è uno strappo vibrazioni good vibration al manubrio che non danno fastidio guardate il motore comunque spinge riprende velocità è molto fluido poi se pianto la terza e accelero anche un bel sound di scarico e riprende molto bene quello che entusiasma sempre della 85 la ciclistica 230 kg col pieno non si avvertono ottime le gomme dall'op 3 smart sono veramente eccezionali a livello di grip e questa moto ha un avantreno tra i più belli nel mondo max enduro è un 19 che sembra un 17 ma di quelli sani di quelli che ti trasmettono tutto vedete come agile la finalmente c'è una bella curva vediamo come l'affronta la nostra guzzi vedete tengo il mio lato senza problemi è agilissima molto sicura un rumore di scarico molto bello molto molto bello è appena sfrenata la sospensione posteriore mentre l'avantreno ha una taratura davvero perfetta guardate anche nel misto sul veloce è una moto molto stabile molto precisa bel lavoro moto guzzi con la v85 tt l'euro 5 ha tolto qualche cavallino ma su strada la cosa non si avverte si avverte invece in maniera nitida la migliore risposta del motore ai bassi giri sotto i 4000 giri si avverte ancora qualche vibrazione quando si superano i 6000 giri sul manubrio soprattutto in autostrada questo si avverte sopra i 130 chilometri orari indicati molto comoda è una moto ovviamente che non invita alla guida sportiva sebbene l'avantreno sia davvero intuitivo che trasmetta tutto è una moto per passeggiare per divertirsi per viaggiare e questo lo fa veramente veramente bene è una gran moto brava moto guzzi con la v85 eccoci tornati dal giro una cosa molto bella che ho scoperto dalla moto guzzi 85 tt euro 5 che il motore è migliorato ha perso qualche cavallino rispetto a prima ma ha guadagnato un'erogazione ancora più corposa e più piena fino ai 4000 giri che era proprio la cosa su cui qualche possessore si era lamentato rispetto al precedente modello la moto va molto bene nel misto ha un comportamento facile intuitivo una grandissima ciclistica venendo invece ai contro la protezione dall'aria lo vedete il cupolino di serie è piuttosto basso quindi la protezione è migliorabile e c'è qualche vibrazione quando si superano i 130 chilometri orari però nel complesso la v85 si conferma un prodotto molto ben rifinito e costruito con tantissima cura da moto guzzi adesso mi fermo lo lascio tutto per voi nei commenti qua sul canale youtube di moto.it e mi raccomando quando andate in moto le protezioni il para schiena e la prudenza sempre ciao